io nel frattempo avevo un bicchiere di cannonau e stavo iniziando a sorseggiare è un buono buonissimo e squisito anche se io allora vabbè di sardi mi piacciono tantissimi bianchi i vermentini sardi mi piacciono vabbè allora io sono di oristano la vernaccia la conoscerai sì sì ho bevuto tutti quanti però per accompagnare il pesce il vermentino di sardegna e lo trovo il top del top proprio si è buonissimo poi il pesce ovviamente qua è buono bene dai via ogni tanto iniziamo dandoti il benvenuto su inside vorrei parlare con te ovviamente dei tuoi del tuo libro eccolo i 40 anni dall'itsfiba eccolo passaggio pubblicitario volevo sapere un po' da te se il tuo intento era narrativo evocativo più celebrativo non lo so senti era da tanto tempo che dicevo devo fare un libro anche perché l'idea me l'avevano dato tutti fanze che spesse volentieri mi scrivevano ma perché non fa un libro ma perché non fa un libro erano già diversi anni che me lo stanno chiedendo questo libro anche perché io come persona c'ho un carattere abbastanza non allora innanzitutto sono una persona precisa molto precisa e quindi tutti erano sicuro che avrei scritto con precisione tutta tutte le cose con un bel ordine cronologico e poi mi piace una persona anche tendenzialmente solare quindi mi piace anche raccontare gli aneddoti mi piace raccontare il raccontare le storie divertenti ma infatti il taglio che ho dato al libro perché sì parlo dei 40 anni miei di l'itsfiba visti dal mio punto di vista ma ne parlo col mio modo di essere che è un modo di essere abbastanza solare quindi ci sono anche dei momenti un pochino più pesanti fra virgolette però fondamentalmente il taglio del libro è ironico e solare quindi parlo dei momenti belli e dei momenti brutti sempre in una maniera piacevole in ogni caso quindi vista dal punto di vista della realtà successa degli aneddoti il libro è pieno di aneddoti ho raccontato cose che non sa ma che nessuno se l'immagina sarà un divertimento scoprirle per tanta gente comunque ho parlato anche dei momenti un po più brutti tipo della separazione ma gli ho parlato in una maniera leggera perché non sono assolutamente una persona rancorosa non sono mai stato sono avvenimenti successi ognuno ha avuto le sue ragioni però la spiega in una maniera molto reale oggettiva ne ho capito più un po meno di parte forse come tipo di cosa quindi comunque il libro sembra che piaccia sta andando bene sembra strano mi ha stupito la casa editrice è già finita la prima tiratura del libro l'hanno esaurito addirittura anche amazon l'ha esaurito che è tutto un dire e c'è già la prima la seconda ristampa stanno facendo del libro lunedì uscirà un'altra edizione del libro con annesso anche il primo cd di novox il progetto musicale parallelo a elite fiba che mi accompagnerà sicuramente molto anche più lungo di l'ifiba perché l'ifiba a certo punto sì bene bene però novox essendo un progetto strumentale destinato ai teatri è un po più orchestrale quindi lo potrò fare anche a 130 anni lo potrò fare cosa bisogna fare per avere questo cofanetto diciamo questa edizione limitata allora no c'è sono due cofanetti c'è l'edizione normale allora dal 7 di dicembre ci sarà il libro da solo questo libro con il cd però c'è un'edizione limitata di 300 copi numerate e firmate che è soltanto per gli iscritti alla mia newsletter basta iscriversi alla newsletter quindi newsletter come le altri uno ci si iscrive gli piace più cliccano disiscriviti e ma no ma no no vabbè comunque interessante anche perché per gli iscritti alla newsletter ci sono anche diverse cose particolari ci sono video che non sono pubblici e capito ci sono anche cose vabbè un regalo che ho fatto agli iscritti newsletter ho fatto rimasterizzare da simoncioni il discotransia quindi in una maniera che è scritto la newsletter può accedere a queste registrazioni può accedere soltanto iniziative interessanti come quindi contenuti esclusivi per coloro che sono iscritti alla newsletter e tra l'altro ti volevo chiedere quest'anno si festeggiano due compleanni importanti i 40 anni di litfiba e 30 di el diablo avevate in mente qualche festeggiamento prima della pandemia oppure no allora prima della pandemia c'erano in programma diversi festeggiamenti che soprattutto erano festeggiamenti soprattutto live dal vivo purtroppo la pandemia ha fatto saltare tutto quanto perché i concerti dal vivo ora come ora sono vietati spero che ricomincino questa prossima estate però io dico sempre spero io la sento di di fare previsioni appena finirà tutto quanto appena ri tutto ritorna normale sperando sia il prima possibile succederà qualcosa come rapporto con la tecnologia con questo nuovo modo di far musica cosa ne pensi dell'evoluzione che c'è stata in questi mesi della musica sei d'accordo non d'accordo con il live stream ti stai riferendo alla tecnica di registrazione oppure al genere musicale vanno in voga ora come allora riguardo i generi musicali vanno in voga ora vabbè è un modo di lavorare far virgolette più elettronico più tecnologico io sono più della vecchia guardia fondamentalmente rispetto tutti e tutti ognuno è padrone di fare quello che vuole e ognuno ci sono i gusti anche quando sci il rock negli anni sessanta ci furono tutti i conservatori che che non apprezzavano questa questa svolta ma già negli anni cinquanta e capite però la musica odierna è fatta in un certo modo ora va così ci sono tanti artisti nuovi che piacciono ai ragazzi è giusto sia così non è detto che per forza devono piacere anche a me però se piace a tanta gente va bene così io sono ancora arrivato ancorato un po' al rock sono rimasto ancorato e anche la musica classica perché la musica va beh ascolta anche musica classica ascolto musica popolare ascolto jazz ascolto tanti generi musicali classici che fanno parte del mio bagaglio culturale quindi quello che faccio risente di tutte queste influenze tecnologicamente le cose sono andate anche avanti ora ti potrei dire che si stava meglio prima però un disco o io di di quando andava in voga il vinile erano bene sta ritornando il vinile sta ritornando in voga dicono che prima o poi sparirà il cd però che il vinile sta anno dopo anno sta ritornando di moda sta ritornando addirittura ora fanno anche i giradischi con l'uscita usb per registrarsi veramente il vinile sul computer quindi stiamo andando avanti in questo senso certo vinile quello che c'è dalla sua che c'è un suono meraviglioso ecco fondamentalmente quello cosa che poi alle non potrà mai avere è molto bello anche da tenere il vinile come ricordo potrebbe essere idea ma infatti quando uscirà il disco di no box l'uscita ufficiale disco no box a gennaio febbra ci sarà anche il vinile come prima uscita mi sembra giusto un tecnologico conservatore sono molto tecnologico nel senso che su usare perfettamente tutta la tecnologia odierna sono bravissimo con computer e con tutte le di dare voleri odierne però certo fondamentalmente però il mister musicale e analogico e basta il primo io amo la qualità io e quindi certe cose di qualità di continuo usarle ti vorrei chiedere come sta il rock adesso in italia nel 2020? Il 2020 il rock in Italia mi sembra sia abbastanza male, mi sembra. Sta bene perché esistono tantissime migliaia di band che suonano rock e continuano a farlo, sta male a livello mediatico perché mi sembra che non sia in questo momento il genere musicale più un vogue in assoluto. E infatti tutti questi nuovi gruppi giovani fanno un po' fatica a venire fuori, anche se c'è tanta gente bravista, a me mi mandano tanti pezzi, tanti brani e ascolto anche delle persone molto valide, degli gruppi molto validi, però è più difficile venire fuori al giorno d'oggi. Sotto questo punto di vista i Lissiba sono stati un po' più privilegiati perché nei primi 80 si ascoltava tanta musica e l'attenzione del pubblico era migliore per il rock. Ora vanno in modo altre cose, vanno in modo la trap, prima c'era il rap, ora c'è la trap, vediamo quanto durerà. Poi sicuramente la storia ti racconta che ci sono sempre i corsi ricorsi delle cose, quindi qualsiasi cosa va, c'è il suo periodo di splendore e poi sparisce e viene sostituita da qualcos'altro. Vediamo quali saranno la prossima sostituzione. Magari tornerà di nuovo il rock? Sì, può essere, è già successo nei primi 90, è già successo. Potentemente. Per dire, per dire, quando il rock andava di moda nei 60-70, poi negli anni 80 ci fu la New Wave, un altro genere musicale stilisticamente molto diverso, poi nei primi 90 col grunge ritornò di moda, hai capito? Ha segnato tutto quel decennio, poi è risparito un'altra volta, e così è avanti. Ma nei corsi e ricorsi tornerà, secondo me tornerà. Di cui sono sicuro è che il rock fra cent'anni lo insegneranno nei conservatori, perché già adesso oltre alla musica classica hanno inserito nei conservatori il jazz. C'è questa nuova, cioè insegnano il jazz. Il prossimo passo sarà il rock. Fra cent'anni, duecento anni, nei conservatori insegneranno le zeppeli, insegneranno. Erano i Vlexabat. Musica di dominio mondiale, culturale, e la insegneranno. La vedi più difficile che insegnino la trap tra qualche anno nei conservatori? A me mi sembra che la trap sia un tipo di musica più pensata per fare effetto, per fare un effetto immediato e momentaneo. Cioè io non sto assolutamente criticando la trap, perché ho sentito anche qualche, non faccio nomi, ma qualcosa di bellino l'ho sentita. Poi che c'è, sono il più rocchettaro convinto io. Però mi sembra che non è musica da mettersi seduta in poltrona, davanti alle casse di un teatro, o in un teatro. E' musica più di consumo, come tipo di… la musica seria è un'altra cosa, la musica seria. La musica classica, il jazz e anche tanto tipo di rock è la musica seria, perché sono musiche… Pink Floyd, per esempio, non è una musica da… è una musica che te l'ascolti in un certo modo, capito? Quindi sicuramente The Side of the Moon rimarrà nella storia. Certo, lo è già. Lo è già, comunque mi sembra che ci sia una classifica dei dischi mondiali che sono rimasti nella storia e che rimarranno nella storia. Ora non me li ricordo tutti i primi cinque, ma so che nei primi cinque c'è Dark Side of the Moon e Pink Floyd e c'è anche The Court of the Crimson King con The King Crimson. Quindi anche perché i dischi del genere la vedo veramente difficile che al giorno d'oggi qualcuno riesca a rifare delle cose del genere. Sono passati i presupposti sociali, è cambiato il mondo e la vedo veramente difficile. Eh sì. Tu avresti mai immaginato ai tempi dei Caffè Caracas, per esempio, il successo che ho avuto in questi 40 anni, perché comunque è tanto passare dai locali piccoli in giro per l'Europa ai palastori? Ma ti dirò che io ho sempre avuto un approccio alla musica molto istintivo e molto aggressivo, anche per come sono fatto io. Ho sempre avuto i parocchi davanti, ho la musica davanti e tiro giù la testa, tiro fuori le corna e vado a dritto. C'è Caffè Caracas, la band che feci con Raff nel 1979, in pochi mesi era già diventata una band conosciuta. Arrivamo addirittura nell'arco di sei mesi a fare la spalla e clash in Piazza Maggiore, a Bologna, davanti a 100.000 persone. Quindi vuol dire che la band era arrivata a un certo livello. Poi ci tirarono ogni band di Dio. E' un altro discorso, perché una band italiana che si permette di fare da spalle clash in Piazza Maggiore di Bologna, ritardando l'entrata di clash, puoi immaginarti come la presero. Poi solo che Caffè Caracas poi sono durati poco, perché abbiamo litigato velocemente. Raff ha fatto la sua carriera solista sfolgorante, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, e io ho fondato l'IFIBA. Eh, niente è male però, eh. Cappetosta entrambi, capito? E l'IFIBA è stata difficile, cioè l'IFIBA si sono fatti veramente alla gavetta, perché in dieci anni per arrivare a poter vivere di quello che facevamo e a poter avere successo ci sono velluti la bellezza di nove anni. Ci sono velluti. Sembra facile, ma non è assolutamente facile. Poi sicuramente in un paese come l'Italia, che è molto ancorato alla tradizione e alla musica e al festival di Sanremo, e a un certo tipo di musica, è difficile fare cose diverse, perché l'immaginario comune è abbastanza quadrato, c'è poca apertura mentale. Comunque in nove anni ce l'hanno fatta l'IFIBA, arrivare a diventare più famosi e a sfondare sul mercato. Inizialmente, se non sbaglio, giravate l'Europa e poi è arrivato con cinque anni forse di ritardo rispetto a l'IFIBA. Sì, perché l'IFIBA hanno fatto, fra virgolette, più successo all'estero, agli inizi della carriera, perché il primo vero contratto discografico dell'IFIBA lo facevamo con la CBS in Francia, quando in Italia non ci inculava veramente nessuno, quindi eravamo sempre a giro per l'Europa. E gli italiani, come al solito, sono arrivati un po' dopo, sono arrivati. Ti ho detto, gli italiani, tante cose belle, ma siamo abbastanza tradizionalisti e conservatori, quindi è difficile inculcare qualcosa di nuovo nella mente degli italiani, ci vuole tempo. Eh sì, in questi quarant'anni sicuramente hai tantissimi ricordi piacevoli da raccontarci. Un aneddoto carino tra le tante cose che ti sono capitate, magari una cosa per cui ridi ancora se ci pensi a distanza di tempo. Ce ne sono nel libro, ne ho raccontati a migliaia, ne ho raccontati. Però ora me ne ha fatto venire in mente uno che è divertente, che eravamo a suonare al Festival di Roskilde in Danimarca, uno dei più grossi festival internazionali. Quella sera, alzatutto, suonavamo insieme Motored, suonavamo, capito? Anzi, Motored suonarono insieme a noi, mi piace. Prima suonarono i Motored, poi suonammo noi. Quella sera, allora, il Festival di Roskilde, come faccio a spiegare? Tolè è una specie di Wurstock danese, ci saranno, sono cinque palchi a distanza di uno dall'altro, finisce un concerto, 300.000 persone si spostano e vanno all'altro palco, con chilometri di distanza a piedi, spesso e volentieri con in mano casse di birra o cosa del genere. Una cosa inimmaginabile. Allora, eravamo arrivati a Roskilde, un posto meraviglioso, c'era un pubblico di 300.000 persone a vedere un concerto, mi sembra che fosse una band australiana famosa negli anni 80, non mi ricordo il nome, non mi ricordo mai il nome. e c'erano praticamente di queste 300.000 persone, metà si stavano facendo delle canne, hai capito? Vanno sotto il mezzo e dicono, questo è il posto che fa per me, vai, si mette a sedere, si leva il giubbotto, ti fuma e comincia a rollarsi una bella canna, hai capito? E in mezzo a 300.000 persone che fuma, arriva la polizia e porta via lui. Sono lui, hai capito? Sono lui. C'era una scena mitica, nel senso che era talmente comica che lo portarono via, è capito? Tutti i 300.000 persone si poteva fare le canne, l'unico italiano che si è fatto una canne lo portava via lui, quindi il genere non è successo a milioni. Alcune meno divertenti, un pochino più trucide, a bel libro l'ho scritto di getto, è stato un lavoro incredibile. Comunque la casa editrice e chi ha curato il libro fondamentalmente ha certe cose, mi le hanno un po' censurate certe cose, perché io sono una persona abbastanza schietta e sincera, quindi tendo a raccontare le cose nei minimi particolari e a volte i simili particolari potrebbero imbarazzare le persone, capito? Quindi certe cose un pochino più pesanti mi sono state un po' censurate, ma è pienissimo di tanti cose interessanti. anche perché si sta andando verso, sai io certe cose censurate l'ho vissute negli anni 70, l'ho vissute anche, e la mentalità degli anni 70 era diversa da quella degli anni 20 di oggi, sicuramente oggi il mondo è andato verso più un certo tipo di perbenismo, e non voglio dire bigottismo, capito? Per fra virgolette, però ci siamo un pochino. Nel periodo posto del 68, tante cose erano più tollerate, capito? Quindi potevano succedere, ora non possono più succedere. Ho visto tra l'altro che tu sei molto attivo sui social, rispondi anche ai commenti, so anche che molto spesso ultimamente stai postando dei video un po' datati, un po' nostalgici. Lo faccio, ma perché ultimamente fra i miei social ho instaurato anche due nuovi canali YouTube, ce ne sognò due, uno si chiama Gigo Rensulli Music, e che parla esclusivamente del nuovo, l'altro si chiama Gigo Rensulli History, dove metto il vecchio. Allora, io li gestisco io, ma come sono anche gestore del canale YouTube Litfiba, perché sono amministratore anche del canale YouTube Fiba, sul canale Litfiba ci sono tanti video storici, che sono storici anche nel senso che non sono stati mai restaurati, capito? Allora ho preso la decisione di restaurarli questi video, di farli rimasterizzare, di sistemare l'audio in una maniera moderna e di postarli sul canale History, capito? Proprio come documento storico, capito? Perché è un canale, quello che è destinato a essere un canale, un documento storico dell'Itfiba. e quindi pian pianino questo lavoro viene fatto, ne ho già postati diversi, pian pianino si faranno tutti quanti, si faranno. Non è una questione di… è una questione soltanto storica, io penso che la storia sia la base dello sviluppo dell'uomo, perché l'uomo va avanti, l'essere umano va avanti, ma si deve basare sempre sulla storia, la storia è importante, perché la storia è la nostra esperienza, è la nostra vita vissuta, non si può andare avanti senza tenere conto di questo. Certo, certo, certo. è un bellissimo messaggio, tra l'altro, perché comunque… C'è anche un canale di Sky che si chiama History Channel, capito? Canale interessantissimo, però che è basilare per l'uomo, per la conoscenza umana, che ripeto al passato, la storia è importante per andare avanti, per non fare anche gli errori del passato. In un periodo in cui magari si tende a cancellare tutto quello che c'è stato prima… È un grosso sbaglio, è un grosso sbaglio che porta verso l'annullamento della mentalità umana, perché è uno dei problemi, penso, che esistono al giorno d'oggi, e anche questo, è che l'individualismo umano si sta sempre più anzerando, capito? perché la gente con l'avvento della rete del computer sta parlando e sta pensando sempre più col pensiero della rete, sta parlando. E questo cosa porta? Porta a un azzeramento dell'individualità, che vuol dire che la gente pensa sempre meno con la sua testa, per come è fatta realmente, e sempre più col pensiero della rete. E te lo sta dicendo uno che usa internet come le sue tasche, perché su usare programmi difficilissimi, non dico un mago del computer, è un prodotto degli ottimi maestri che ho avuto, quindi sono molto bravo e mi piace utilizzarlo, però va utilizzato a mio avviso nella maniera giusta, senza mai dimenticare quello che siamo stati e senza mai dimenticare quello che pensiamo realmente. E quindi rispondendo alla discorsa che io interagisco col pubblico nei miei social, c'è tanta gente a volte che mi dice il suo pensiero e mi dico no, non sono d'accordo, per questo, questo e questo e questo, non vedo niente di male. Io adotto questa tecnica, questo modo di... perché fa parte del mio carattere, sono una persona chiacchierona e solare e mi piace parlare a quelle persone. Non voglio avere il comportamento di tanti artisti che mettono lì la vetrina di Facebook o la vetrina di Instagram, ci postano sopra la roba e chi si è visto, si è visto. E se qualcuno ti chiede pure qualcosa non gli rispondo neanche. è un tipo di atteggiamento che a me personalmente non piace e quindi sono orgoglioso di fare in una maniera diversa, quindi molto semplicemente. E penso che anche i tuoi fan siano comunque molto contenti di questo rapporto. Molti sì, molti sì, sicuramente molti sì o perlomeno chi mi segue sa come sono fatto e sa come mi comporto. Io non obbligo nessuno a seguirmi, ognuno fa quel cavolo vuole nella vita, capito? Però chi mi segue sa che sono fatto così e che quindi in ogni caso c'è un'attenzione sulle problematiche di cui si parla. Il mio pensiero lo dico al mondo. Io non ragiono col pensiero della rete. Si è raffrizzato un attimo il video. Comunque ti volevo chiedere come ultima cosa se dato che stavamo parlando prima di ritorno ai live e abbiamo parlato di posti come Wustock che adesso sono inimmaginabili cosa ne pensi quando potremo tornare alla normalità tu dicevi prima nella prossima estate magari si potrà fare qualche live ma sicuramente non come ce li ricordiamo fino all'anno scorso. Quando si potrà tornare alla normalità? Come si potrà tornare con te? Io in Italia non lo so. Io quello che so per certo è che negli Stati Uniti hanno spostato tutto al 2022. In Italia si dice questo si dice quell'altro ma siamo in Italia. Negli Stati Uniti le mie informazioni autorevoli mi dicono che stanno spostando tutto al 2022. Stanno spostando perché sì sicuramente il covid si attenerà sicuramente i 28 milioni di dosi di vaccino che arriveranno se non creano problemi strani funzioneranno. Poi ci saranno le altre prima o poi si vaccinerà tutto quanto. Però bisogna dire anche una cosa che vado a un evento prossima estate vado a un evento pubblico in mezzo a altre 20 mila persone a tu per tu stretti un all'altro. dice ma che devo rischiare? Vediamo che succede. No, non sto scherzando è un dato di fatto capito? Sì, sì. Prima che l'immaginario comune diventi si abitui a questa e non abbia paura di quello che può succedere un po' di tempo passerà. Per questo forse negli Stati Uniti stanno spostando tutto al 2022 capito? Ci arriveremo anche noi italiani siamo degli inguaribili ottimisti magari speriamo che l'anno prossimo sia già quello buono ma la vedo un po' ardua anche perché arriva le dogi prima che vaccinino i 60 milioni italiani un po' di tempo ci va no si potranno ricominciare i concerti però a numero ridotto e a distanza però le calche sotto al palco del rock la vedo un po' ardua la vedo capito a meno di non fare tutti i concerti con la maschina che ho visto aspetto ho visto un filmato infatti in America o in Inghilterra di un concerto dentro delle bolle di plastica ho visto questo filmato capito oddio ragazzi eravamo tutti delle amebe non lo so ora spero che non sia quello il futuro però quello potrebbe essere il sistema ti mettere una bolla di plastica dentro fai che cavolo ti pare piante poi non so come si sanificheranno le bolle però magari saranno usegetta le bolle che ne so comunque l'hai visto è questo filmato questo filmato sì sì assolutamente sì anche perché anch'io lavoro nei live quindi ovviamente sono sempre aggiornata su queste cose purtroppo per noi ne esce una ogni giorno poi il mio augurio da musicista ed artista è che tutto finisca immediatamente e che già da domani si possa ricominciare a suonare chiaramente però purtroppo non dipende da me eh già speriamo bene speriamo che si possa tornare al più presto è come ai vecchi tempi è visto ora sono entrato con questa qua sono entrato è capito una bella kn95 è capito appena uscito il tecnico appena uscito l'ufficio stampa sono potuto levarla perché sono da soli in questa stanza certo la rimettono piede dentro subito blup è capito eh sì è la nuova è la nuova abitudine tra l'altro non so se ti capita mai di vedere film subito pensi ah non hanno la mascherina ma si stanno abbracciando e non potrebbero non lo so probabilmente faranno i test faranno dei test probabilmente prima di girare faranno i tamponi prima di girare capito e sai probabilmente i tamponi li deve fare non dico se lavori un film su un set e le persone devono lavorare insieme i tamponi li faranno giorno giorno li faranno ogni giorno per vedere se siamo in grado di girare arriviamo a fare i tamponi prima dei live può darsi che si arrivi a quella magari abbiamo un sistema di fare un tampone veloce prima di entrare dentro nel biglietto ti fa il tampone c'è il risultato te sì no te no via dai speriamo bene speriamo di tornare normali a lavorare va benissimo grazie 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 a te grazie a voi grazie a 6 music ciao a tutti allora grazie a voi ciao 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 ciao